salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video su diablo 4 è il momento di parlare di endgame cosa si fa nell'endgame soprattutto quando si inizia l'endgame finalmente posso parlarvene con cognizione di causa perché non è solamente theorycrafting ma ci ho giocato ci sono in questo momento al tier 4 in realtà world tier 4 anche se il world tier 4 in teoria è consigliato per il livello 70 già sono in tier 4 da un paio di livelli quindi siamo un po in anticipo questo perché vi preannuncio che sì l'endgame è più impegnativo ma non tanto o meglio c'è una sostanziale differenza tra quello che si fa nell'open world in totale tutti gli eventi che allora andiamo a vedere uno a uno e quello che sono i nightmare dungeon nightmare dungeon che potete attivare usando i sigilli e anche lì ci arriveremo comunque vi dico subito che la difficoltà dell'open world quindi mare infernali albero dei sospiri o in generale giocare i dungeon non nightmare a parte l'inizio magari del tier poi diventa abbastanza semplice nel momento che voi avete ovviamente una build decente e un po di oggetti decenti la difficoltà seria sono i nightmare dungeon che possono arrivare fino al tier 100 e quindi i mostri oltre il 150 e quelli se giocate chiaramente con dei tier molto alti anche 5 6 7 8 livelli sopra il vostro cominciano a essere impegnativi e saranno l'unica cosa veramente impegnativa credo nell'endgame anche finale perché in tier 3 menano ma in tier 4 meno ancora di più hanno ancora più affissi di difficoltà e insomma sono divertenti da giocare ma prima di arrivare a nightmare dungeon di incredibile difficoltà cosa potete fare in realtà nell'open world beh intanto voi dovete finire la campagna e fare il capstone dungeon al tier 2 per sbloccare il tier 3 questo lo potete fare quando volete in teoria ma in realtà il capstone dungeon che si trova nella capitale di chiovistrad qua ci possiamo anche andare è cappato comunque al 50 come difficoltà di nemici quindi non scala questo sia un bene che un male ovvero potete over livellarlo e quindi farlo in estrema facilità però se andate troppo presto effettivamente sarà abbastanza impegnativo però se volete potete velocizzare le cose magari fatelo aiutare da qualcuno più alto di voi e potete anche completarlo anche a livello 45 40 però ricordatevi che una volta che andate al t3 il livello base è 53 mi sembra di tutte le attività e di tutti i mostri nell'open world quindi comunque se arrivate al t3 molto presto vi troverete con i nemici molto più alti di voi che anche lì è un bene o male perché sono più difficili però anche prendete molta più xp uccidere mostri e fare cose sottolivellati è estremamente buono per l'xp comunque il capstone dungeon sta qui e in teoria io lo dovrei vedere però non so perché non lo vedo ma vi assicuro che c'è tant'è che se ci andiamo ci posso anche entrare immagino o forse no perché sono in tier 4 scopriamo questa cosa live in teoria sì wow scopriamo cose che non sapevo quindi se siamo in tier 4 questo dungeon non si può fare perché effettivamente poi ci sono altre cose da fare quindi quindi bisogna scendere in t2 per vederlo dovete farlo comunque a veteran potete sempre cambiare nella statua qui di in arius al centro di chiavi stad e ok ora ora c'è ok ora c'è quindi al t2 voi fate questo capstone dungeon lo potete sempre fare lo potete anche rifare appunto con amici lo finite è un po impegnativo dipende dal livello in cui lo fate ovviamente il boss finale potrebbe essere un po complesso se lo fate un po sottolivellati comunque in quel modo comunque sbloccate il t3 una volta che voi siete a t3 avete tutta una serie di attività che vi spunteranno nuove da fare una delle più semplici e che comunque anche abbastanza premiante sono le quest le daily del tree of the whisper quindi l'albero dei sospiri questa le potete rifare quante volte volete una volta che avete 10 favori fondamentalmente vi dà una scelta di loot per aprire una cassa che può essere di anelli armor armi o cose generiche quindi è una cosa buona da fare anche perché i favori sono facili da fare in particolare e se fate quelli da 5 favori ovvero se fate i dungeon i dungeon vi danno 5 favori cambiano sempre nella mappa quindi è tutto randomico quindi vi fa girare anche tutta la mappa oppure potete fare eventi minori che danno 3 favori o un favore mio consiglio fatevi due dungeon da 5 e fate molto prima e poi i dungeon sono anche divertenti e quindi questa è la cosa veramente più facile per fare xp perché da abbastanza xp e fare anche leggendari dopodiché ci sono le marea infernali ora in questo momento specifico non c'è la marea infernale perché c'è un'ora sì e un'ora no però magari mi metto qualche footage da che ho registrato lì fondamentalmente è entrata in questa zona che è randomica infestata da demoni dovete raccogliere delle risorse delle braci che se perdete ne perdete la metà con quale aprite delle casse che trovate in questa zona entro il limite cioè non potete accumulare queste risorse all'infinito nel frattempo c'è anche un world boss potremmo provare a farlo mentre parlo incredibile però dovrei farlo a t4 ragazzi aspettate voglio farmi il forward boss vediamo se ci riusciamo e comunque le maree infernali sono un'ottima possibilità per trovare dello specifico loot perché all'interno di queste maree infernali appunto ci sono delle casse specifiche di un loot specifico che costano un tot di braci quindi una volta che voi avete abbastanza braci cercate la cassa giusta e le aprite l'importante è non morire perché perdete appunto la metà del loot cioè delle braci e in questo modo fate un bel po' di equipaggiamento fate un bel po' di exp perché si expa bene e soprattutto delle risorse molto importanti perché ci sono delle risorse che droppano solo nelle maree infernali nel frattempo il world boss è stato ucciso e quindi lo preso nel culo e quindi torniamo in città se ci riusciamo intanto potrei farvi vedere la potenza smisurata di questa build siamo a t4 vedrete che tutto esplode molto velocemente ma per la mia build poi diciamo che ci saranno altri momenti in cui vederla quindi le maree infernali sono molto importanti quali sono le risorse fondamentali che vi consiglio di tra virgolette farmare ma semplicemente le trovate aprendo casse o ammazzando i demoni sono risorse che vi serviranno tantissimo per il building del vostro equipaggiamento queste risorse che droppano per lo più nelle casse delle maree infernali ma anche in giro servono a rerollare una statistica per gli oggetti chiaramente di alto livello sia leggendari che rari e ne userete un botto di queste forgotten souls perché rollare la stats che non vi va in un pezzo è fondamentale se vedete il mio equip vedete che tutti hanno questo pallino blu vicino a un affisso ed è una stats che ho rerollato e l'ho fatto praticamente in ogni pezzo che ho craftato da un giallo o da un leggendario per ottimizzare la build tranne ovviamente gli unici che non si può far nulla e questa cosa è una delle cose che vi fa spendere più gold in assoluto nel gioco spenderete il 95% di gold in reroll della stats giusta in un pezzo e vi servono forgotten souls quindi maree infernali da fare certamente sia per il target loot che per le risorse poi c'è il world boss come avete visto prima era spuntato il world boss e non sono riuscito a farlo e questa è un'altra attività endgame che dal t3 potete fare e i world boss sono estremamente semplici rispetto alla beta magari adesso vi metto una clippina per farvi vedere veramente una facilità impressionante sia t3 che t4 evidentemente non sono tarati rispetto all'equip medio della gente di alto livello nella beta erano difficili in release sono una cazzata sono proprio una loot pignata e lì droppate una cosa utile questo il prisma lo scattered prisma questo lo droppano per lo più world boss ma in realtà forse lo trovate anche a caso facendo altre cose questo è per fare i buchi quindi come detto per rerollare statistiche vi serve questo forgotten soul e sarà molto molto costoso un'altra cosa che potete fare dall'occultista oltre ovviamente estrarre aspetti leggendari e infondere aspetti leggendari e craftare i sigilli e rompere i sigilli i sigilli che vi servono per attivare i nightmare dungeon che sono la cosa più difficile del gioco infatti si parte da tier basso e piano piano si alza di tier per esempio adesso io ho solo 19, 20, 20 sopra il 20 perché insomma faccio questi che con i mostri più o meno 10 livelli sopra il mio fondamentalmente come calcolate la difficoltà si parte dal 53 in realtà e poi aggiungete il tier quindi per esempio un tier 20 è praticamente mostri di livello 73 e questi dungeon sono molto importanti non solo sono divertenti da fare perché hanno molti più affissi sono più complessi ma vi servono soprattutto per i glifi infatti i glifi che voi applicate nella paragon board se volete c'è un video sulla paragon board hanno un livello questo è il livello 7 questo è il livello 3 questi sono il livello 3 questi sono il livello 1 per livellare questi glifi che sono fondamentali perché sono molto potenti voi dovete completare un nightmare dungeon e alla fine quando c'è proprio il completamento apparirà un altare che vi permetterà di prendere dell'exp che dipende da che livello è il tier del dungeon e livellare i glifi quindi è molto importante fare anche in nightmare dungeon non solo perché sono la cosa più difficile e divertente ma anche perché vi alzano il livello di glifi ed è fondamentale perché più alti sono i glifi più il loro effetto è potente più il loro radius di influenza è grande e quindi di fatto sono più potenti e questa progressione del paragon è importantissima è più del 50% della potenza del vostro personaggio poi alla fine ed è fondamentale ci sono un sacco di sinergie cose fighe che quasi possono applicare con la paragon board quindi alla fine a endgame farete questo certo cercherete di ricompletare tutte insomma le attività delle varie mappe fate conto che io con tutto quello che ho giocato ancora non ho finito tutto ancora c'è da da completare e soprattutto c'è uno dei paragon point qua all'ultimo livello della progressione del reno della fama delle regioni potete fare questi whisper of death quindi i favori dell'albero e questi li potete fare quante volte volete potete fare le maree infernali quando appaiono e sono molto divertenti potete fare i world boss quando capita potete girellare a cazzo di cane e potete fare ovviamente i nightmare dungeon che sono l'attività più importante del gioco questo è quello che potete fare in endgame la mia opinione è che generalmente il gioco è abbastanza semplice soprattutto se sapete cosa fare e nell'open world diventa quasi triviale una volta che funziona la vostra build e insomma siete efficienti anche perché lo scaling dell'open world è fino a un certo punto tutte le attività che si fanno sono incentrate nel favorirvi a droppare tanta roba tanti materiali tanti leggendari qualche unico per che vi ne servono tante prima di trovare le cose giuste il vero endgame del gioco sono i nightmare dungeon quindi livellare i nightmare dungeon una volta che ne fate uno droppate i sigilli per uno più difficile e così via potete ovviamente anche craftare come ho detto i sigilli qui quindi comunque voi ricraftate letteralmente i sigilli quindi del tir che volete questi nightmare dungeon sono proprio la spina dorsale dell'endgame del gioco poi quando si arriverà anche fino al 100 continueranno a essere difficili chiaramente si arriverà a un punto in cui capperete anche questo saranno facili tra virgolette anche questi forse a livello 100 chi lo sa forse sì forse no e poi ci sarà un mega boss capstone da fare e poi praticamente avete finito ma nel frattempo saranno passate penso più di 100 ore 150 ore di gioco per una persona media che magari non è un super hardcore player quindi secondo me ci sta è un'ottima progressione è una base ottima a livello di endgame per aggiornamenti futuri vedremo anche le stagioni poi cosa cambieranno in effetti e poi questo è un gioco che dura tanto tempo quindi come base non c'è paragone per esempio rispetto a diablo 3 c'è tantissimo da fare io in questi giorni ho giocato tantissimo quello che ho giocato io una persona normale probabilmente la farà in un mese e quindi questo gioco ha un sacco di content anche endgame e devo dire che anche se è facile quello che trovate poi nell'open world in generale comunque è molto variegato è molto divertente da fare è molto soddisfacente quindi insomma è un bel gioco diablo 4 e spero che lo terranno su questo livello anche in futuro e chiaramente spero che aumenteranno le cose da fare anche a livello di in game come difficoltà detto ciò ragazzi io chiudo qua il video spero che vi sia piaciuto fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti noi ci becchiamo comunque prossimamente per altri video su diablo 4 su questa playlist statemi bene come sempre e alla prossima ciao ciao